In apertura ci occupiamo di cronaca, incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi lungo la variante Frentana a Lanciano. Nello scontro tra un'auto e una moto ha perso la vita un motociclista, si tratta di Mauro Picca, 40 anni appunto di Lanciano. Dai primi accertamenti dei carabinieri sembra che l'auto fosse in fase di sorpasso quando è entrata in collisione con la moto che stava uscendo da una strada laterale. La moto ha poi preso fuoco, il conducente dell'automobile, un 25enne, è rimasto illeso. La procura ha aperto un'indagine.